Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo test map oggi sono qui in questo campo appunto per presentarvi una mappa è la Chellington Extended come potete vedere la versione del 2015 è stata creata da modder inglesi infatti è ambientata anche in inghilterra tra l'altro e come mappa direi che non è male come detti i campi sono veramente immensi per esempio il 15 e il 14 ma anche gli altri non sono da meno sto qui in una mappa con campi belli grandi cioè ci sono quelli piccolini però cioè piccoli sono medi però è principalmente molto grande allora direi di partire dalla farm principale che è questa qui allora sta qua ci sono due farm questa è la Chellington Farm dove ci sono mucche, galline e pecore mentre c'è la Meewood Valley Farm in basso a sinistra in basso a destra scusate che adesso non mi ricordo più però in teoria i pig beef esatto allora qui abbiamo le partiamo da qua che adesso non mi ricordo più ma no questo qui non è un qui è un deposito per balle di fieno dopo ci sono anche i vari punti vendita mentre qui ci sono le pecore cosa che noterete beh ci sono tutti i sound ma una cosa che noterete qui dove ho falciato l'erba dopo che avete falciato l'erba del prato diventa sul giallo sul giallino vedete guardate qua e come cosa non sembra male qui avete le vostre pecore dove venite qui che dovrebbe essere l'acqua portate da bere mentre qui scaricate il cibo e qui vi si forma il bancale di lana poi qua ecco iniziano i due silo i sì, i quattro silos mais, colza vedete c'è anche il disegnino questo è orzo questo è frumento e qui lo potete scaricare ecco se volete riempire un carro che eccolo qua potete prendere la pala gommata e riempire direttamente il carro oppure venire qua e con R facciamo frumento non ce n'è più poi c'è anche un'altra cosa molto bella e molto utile che riguarda questo silo se quello dei beef e pig adesso lasciamo così anzi scarichiamone un pochettino ok poi qui vari capanni qua sarebbe l'entrata avete bisogno del map door trigger oppure l'animation sempre sempre animation map door trigger adesso non mi ricordo più se ve le danno o no perché è una mappa che è uscita già da tempo qua un altro capanno sto qui in capanno vecchio e poi avete ecco qui al punto vendita della paglia della paglia che avete punto di ricarica semi fertilizzante poi altri capagni qui avete due belle trincee che mi pare che tengo molto vedete da sotto vanno vanno su a rampa poi qui avete l'etame quanto è che ne ho tiene appena 100.000 un po' poco poi aspettate ecco qui avete le mucche potete passare di qua oppure c'è questa stradina che vi permette no lì non c'è niente guardate qua che bella l'acqua ecco qui ho falciato vedete il giallo dell'erba e avete le mucche e qui li mettete l'acqua e qua dentro ecco la parte più brutta che ho trovato è la stalla perché ad esempio con il con lo stradina non riuscite a entrare perché ci sono le collision quindi è un po' un problema però con questo dovete venire qua per scaricare adesso ho erba venite qua scaricate l'ho fatto qua fuori i mucchi ma dopo non posso più raccogliere quindi fa nulla poi qui si prende il liquame e poi c'è il punto dove prendete il latte che eccolo qua adesso non ci dà nulla lui però forse qua mi dà no lavoriamo sulle impostazioni il latte abbiamo 117.000 litri quindi è ora di prenderlo scusate ma un po' di mal di gola poi ecco già che siamo qua qui avete il deposito del cippato vedete fate sta stradina e qui avete un cancello di uscita anche qua i cancelli venite qua con se state un po' da una parte si apre uno se state un po' dall'altra si apre l'altro però si potete aprire anche contemporaneamente così adesso si aprono dall'esterno ecco così contemporaneamente sono molto belli perché le strade sono belle larghe tutto poi essendo in Inghilterra si guida a sinistra poi ritorniamo qua dove c'era l'etame qui avete le galline dove potete ecco una cosa brutta un po' scomoda che hanno le collision queste siepi qui ci sono le galline dove qui allora adesso non mi ricordo più non vorrei confondermi ma gli avevo dato anche da mangiare ecco qui mettete il frumento e qui gli date l'acqua e qui avete tutti i depositi di patate e barbabietole con i i vari nastri qui qua c'è un campetto ah eccolo dalle pecore allora a sto punto direi di già che siamo qua vicini andiamo su alla l'amberi l'amberiard allora come mappa non è affatto male mi è piaciuta molto qui vedete c'è un altro cancello cioè lì dalle mucche le mucche vi possono scappare ma poi con tutti i vari cancelli se ne se ne stanno buoni in giro per la farm cioè scappano dal recinto ma sono in farm comunque quindi allora eccolo qua è un punto per il per il legname qui vedete wood e timber allora dovrebbero essere la lana e i come si chiama i pallet di legna però presumo che è il punto anche del vendita del del legname perché non c'è sulla mappa adesso cioè non è che presumo è il punto vendita del legname qui avete un po' di campi c'è campi ortaggi sarebbe un ortaggio la macchina non è nostra infatti dove potrete mettere magari le serre le comprate le piazzate qua questa pianta non mi pare che non non funziona la mod quella dei frutti poi qui dove è che benzinaio ed ora allora qui abbiamo visto andiamo a vedere la foresta già che siamo qui da queste parti come vedete molti campi tutti i comprabili e molti seminati ad erba allora andiamo alla zona foresta che è l'unica che si ha a disposizione allora eccola qua la stradina non è male a dirla tutta la zona forestale non è che mi piace più di tanto vedete proprio non su poche foglie queste piante come se è stato appena disboscato un po' la zona vedete cioè non è che mi piace più di tanto poi ci sono questi ampi campi che potete basarci le giornate veramente anche questo qua seminato ad erba è è tanta roba allora adesso a questo punto siamo andiamo a vedere il punto vendita degli animali qua c'è sottopassaggio e allora aspettate ah qui avevo si avevo preparato il campo però non non sono riuscito a finire perché ho mandato avanti il tempo è andato tutto a quel paese allora qui non c'è nulla sentite le voci delle persone adesso no dei maiali scusate allora qua c'è il punto vendita dei beef sarebbe e qui dei pig poi andiamo se andiamo di là adesso non riusciamo a saltare la rete qui abbiamo un magazzino e qui avete il punto vendita delle varie colture adesso mi mi pare che no aspettate la le barbabietole e le patate le potete vendere allora questo qua si chiama Chellington Chellington stores scusate sempre si potete venderle e poi c'è anche potete venderle anche al Denton stores beh comunque poi qui venite a portare il latte qua dentro e poi qua potete comprare non mi ricordo più se i mezzi no i pallet appunto perché qui non è lo store e poi qui avete il biogas che secondo me potremmo fare magari un'altra trincea qua magari no più che altro potremmo farla qua vabbè poi qui c'è il punto del liquame le due cocle e le due trincee appunto ora 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 aspettate fatemi scegliere un po' i mezzi eccomi qua siamo giù in fondo a destra dai nella Mido Valley Farm allora partiamo dall'entrata che c'è questa ce ne sono due una qua come sempre e una qua con le due porte noi entriamo da questa dai venite qui e avete la cattle shed che dovrebbero essere i beef si sono i beef vedete qua dentro eccoli lì e poi vedete qua gli date le patate frumento acqua e qui producono il loro liquame poi sto rifacendo il giro qui avete le due trincee per l'insilato così magari sono troppe le due trincee però vabbè allora questo qua è quella dei pig stessa cosa eccoli lì questo qui dovrebbe essere il letame boh perché ecco un punto un po' sfavore è che non ho trovato il punto dall'etame quindi io presumo che sia questo qua c'è esca qua fuori però mi sembra strano ok aspettate qua sotto no non si vede nulla ah si guardatelo qua si forma qua dentro l'etame però ok ho soltanto una moda di cancelli perché non mi lascia entrare quindi è un po' un problemino vedete adesso qua sotto si è formato appunto l'etame andiamo a vedere da loro esatto cioè si forma l'etame però non ci lascia prenderlo ok magari bisogna prenderlo anche da qua fuori però boh non saprei vabbè poi qui avete un punto per l'acqua dove potete prenderla però non potete berla non sarà potabile e qui avete allora fertilizzante punto per i semi molto bello perché non ce n'è soltanto un pacco un bancale per ogni tipo di semi ma ce ne sono ben quattro ed è un bel punto a favore poi qui niente avete una piccola officina anche se è ben fatta e qui ecco ho portato si qua c'è la paglia mentre qui ecco una cosa molto bella che le patate che ci sono qua sono in contatto con le altre quindi se vendiamo le patate che ci sono nell'altro deposito anche queste se ne andranno stessa cosa qui con il frumento adesso vedete faccio vedere il frumento che abbiamo 3.000 perché l'ho svuotato di là adesso andiamo qua in retro no devo andare devo andare qua in retro ecco iniziamo a scaricare vedete inizia ad aumentare scarichiamolo tutto intanto ce n'è poco vedete va su a 12.000 poi qui dovrebbe essere un altro punto vendita dalla paglia esatto e questa zona è finita ecco vi dico di provare con il letame magari con un'altra mod perché con questa qua che ho io non mi lascio aprire i cancelli aspettate però no c'è in teoria con la modalità sviluppatore dovrebbe dirmi l'apertura l'apertura dà lì cancelli invece non mi dà niente quindi non saprei ok passate qua con la pala e prendete l'etame anche se penso che sia così rispettate dovrebbe essere così comunque vi lascio provare a voi perché non ho proprio capito come funziona poi una volta che è lì boh dove lo mettete vabbè adesso andiamo un po' sui mezzi allora questo ho già guardato a vedere che ho finito i mezzi esatto noi dobbiamo andare giù dalle galline allora andiamo eccolo qua prendiamo questo no più che dalle galline dobbiamo andare all'altro punto vendita campi a mais mi pare che non ce n'è nessuno non vorrei sbagliarmi no no non ce n'è proprio nessuno seminato a mais tutti frumento ed orzo adesso sono entrato nel campo andrò a pestargli giù tutto però ecco anche soltanto questi muretti qua abbelliscono un casino la mappa poi cancelli molto bella l'unica cosa che non mi piace è questa texture qua sì non è mai però c'è tutto uguale non mi piace molto andiamo avanti punti punticello vedete quello in sasso le piante quelle centenarie no non proprio però quasi ed eccolo qua il punto guardate c'è anche un cavallo con l'animazione che collo ha vabbè qua dietro non c'è nulla mi pare appunto sì ci sono i cavalli però non possiamo comprarli e qui avete il punto vendita delle uova però io adesso uova non ne ho quindi nulla sarebbe un maneggio qua no non vendete no non potete proprio vendere la paglia comunque ci sono i vari punti ed ora andiamo all'ultimo punto vendita delle colture che è il Denton Store e di boschetto ce n'è un altro qui da queste parti però è molto più piccolo vi porto prima il boschetto guardate anche le case cos'è un castello sì texture fotografiche però non è male wood è di qua sarebbe il bosco ecco sarebbe questa zona qui però è molto piccolo qui tra l'altro non si può neanche entrare mi sa sì si può entrare però è stato messo lì così poi c'è la ferrovia che è molto bella poi questo ponte anche guardate questo ponte cioè è proprio spettacolare e andiamo a finire dov'è che è finito? ok il Denton Shop qui è proprio un casino con tutte queste collision nelle siepi perché non sai mai quando puoi o no però qui è sicuro che non potete mai saltarvi si saltare passare sulle siepi allora eccoci qua allora questo qui è il punto vendita e lana quindi o che ce ne sono due o che là è soltanto per il legname i pallet però dovrebbe essere soltanto per il legname perché qui non c'è la mod della segheria e qui potete vendere sempre le vostre colture patate e barbabietole poi qui è nulla adesso torniamo un po' in farm andiamo qui che c'è un po' di movimento ecco si è andato no quindi ragazzi io spero che questo test map vi sia piaciuto oggi dovrebbe essere appunto domenica perché ieri ho deciso di non caricare video perché il video è venerdì uscito tale quindi vi do la possibilità di vedervelo e poi visto che vado via sabato sera cioè ieri sera sono stato via non riesco proprio a registrare quindi questo qui è già stato registrato da due giorni più o meno sta mappa qui non è nuova più avanti ve ne presenterò una un po' più nuova perché adesso sto pensando di fare un po' più presentazioni in map dato che ne ho scaricate alcune e non sono mali poi tra l'altro potrei perché ho registrato il video dei DNS come cambiarli per chi ad esempio ha chiavette come me e uscirà appunto quando sarò a fare stage stage scusate perché ce l'ho insegnato stage quindi diciamo così dato che avrò poco tempo per registrare quindi lo devo ancora caricarlo però lo caricherò a breve per tipo il 10 di febbraio il 15 ecco poi anche il video forestale quello reale e magari vi porterò magari qualche test mode un po' vecchio oppure test map più che altro sarà test mode perché dura un poco e magari qualche episodio delle serie però sugli 15 minuti ecco quindi ragazzi io spero che questo test map vi sia piaciuto vi ricordo come sempre di lasciare un bel like se vi è piaciuto il video ovviamente commentare per magari avere più informazioni o per correggermi e iscrivervi al canale se lo avete ancora fatto ciao a tutti ragazzi al prossimo video ciao a tutti